Lo Stato ti dà la possibilità di avere tre proposte e se tu rifiuti queste tre proposte poi perdi anche il reddito di cittadinanza, è molto semplice, noi le coperture, perché ogni volta le coperture io ce le ho qui, lo Stato come le dà? Le tre proposte come le dà? Scusi, lei l'avrà ripetuta centomila volte, ma siccome io sono una zucca, voglio capire, lo Stato domani mattina viene da lei, no ma rabbia, ma come si permette? Siccome a differenza sua, io le vostre cose le leggo, voi le cambiate un po' spesso, lo Stato tre volte gli lavori come li dà? Buona fede, ma dove vive? Dove vive? Come trova a due milioni di ragazzi tre offerte di lavoro? Li fa fare tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle? Tre offerte di lavoro, ma da dove esce? Grazie a tutti. Grazie a tutti.